Devo dire che mi sento molto fortunata a fare quello che faccio e sentire quotidianamente l'affetto e l'appoggio delle persone che mi seguono, anche se allo stesso tempo stare sotto la lente di ingrandimento ti costringe spesso a essere impeccabile. L'un dei problemi in questi ultimi anni in Sénégal è la gestione dei soldi. C'è anche una scuola primaria che è completamente allata in l'eau. E c'è un altro villaggio che si chiamava Dunbabdje, che è completamente disperto. Qu'è la scuola? 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 Non si può fare a meno di Cirio. Prevenire questi rischi con soluzioni di sicurezza informatica è fondamentale. Perché sicurezza qui significa evitare perdite di tempo e soprattutto di denaro. Voi volete perdere denaro? Io no. Un esempio concreto? L'online banking è considerato uno spazio sicuro. Eppure anche lì i tentativi di phishing sono molto frequenti. Solo nel 2018 ci sono stati oltre 137 milioni di attacchi. Sono siti web uguali al sito della tua banca, ma per rubarti dati sensibili. Kaspersky protegge i tuoi dispositivi dalle minacce informatiche. Pena di 60 litri. Aplitte a inserciati a signal flag. A sidi hook. Chiede 2 coi che siano. Sidi slitti. 3 harness rings. A water-resistant pocket on the shoulder. A re-enforced back. A stabilizer strap. A sidi re-enforced handle. A ring at low. Offer you extra safety while swimming. It has side slits and laces, a holder for the signal flag, a stabilizer strap, ergonomic back, water-resistant pocket on the shoulder strap, and a large front pocket. It has a more limited number of straps, but that makes it ideal. Acqua di mare delle cinque terre per liberare e detergere il naso, senza medicinari. Isomar, liberi di respirare. I nostri occhi non sono nati per gli schermi, eppure ogni giorno rispondono migliaia di stimoli digitali. Leggono, amano, lavorano, si emozionano e si affaticano. Per rilassarli, OIA ha creato SYNC, lenti che aiutano a ridurre e prevenire l'affaticamento visivo digitale. Firma anche tu per il 5x1000 GSD Foundation. Pag. Ida è a bellezza profumeria Ida è a bellezza 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 Ida heralds a new era of global solidarity For promoting prosperity, equal opportunity and environmental stewardship For the first time ever, we have a transformative set of global goals Agreed by all countries and that applies to every nation Ida è a bellezza